Le fornaci di Vertova sono due strutture industriali ormai in disuso da anni per le quali l'amministrazione comunale ha approvato un piano di recupero. I cosiddetti forni vecchi risalenti al 1923 sono in parte tutelati dalla sovrintendenza come archeologia industriale, mentre i forni nuovi, la cui attività di produzione di calce idraulica cessata circa 15 anni fa, saranno demoliti. Un piano integrato che permetterà al comune di Vertova di riqualificare alcune vie del centro storico. La proprietà che realizzerà questi nuovi edifici in convenzione col comune per quanto riguarda i vecchi forni dovrà corrispondere al comune l'importo di 300.000 euro pari a 150 euro al metro quadro per i 2.000 metri quadri che mancavano di area parcheggio a standard. Quindi con questi 300.000 il comune realizzerà dei parcheggi all'interno del centro storico. Per quanto riguarda invece l'area dell'ex domade la convenzione prevede che la proprietà realizzerà per conto del comune la riqualificazione di due strade importantissime del centro storico ed in particolare la via San Rocco e la via Fuggeroli per un totale di intervento previsto in 630.000 euro. Oltre a questo ovviamente dovrà realizzare due ponti di collegamento con la via Canale in modo da rendere più fluido il traffico che si verrà a crearsi da questo nuovo centro per un importo di circa 300.000 euro e ulteriormente presterà una garanzia fiduciaria per ulteriore 330.000 euro per realizzare delle opere al di fuori del comparto stabilito. In più ovviamente ci saranno i soliti oneri di urbanizzazione previsti che si agirano per questo piano integrato di circa un milione di euro che ovviamente entreranno nelle casse del comune soltanto via via che verranno realizzati gli interventi.